Tutto lì segreto 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 Ma la rieca La rieca è come 2 milioni 2 secondi là è proprio Non è Non è Non è che se si fa lì 46 euro ogni volta Qua ti dico E poi vedi che quella lì L'altra mestra non si sprazza come la ora Stai ancora La stanza 714 La quarta volta che viene a Mugello Dopo due mesi che andava A aprire la moto A girare in 2.5 Con il boom Usato Ok Se girava in 2.04 Sì 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 Sì